Ciao a tutti, siamo Patrick, Katia e April, Dylan, fondatori di Education for Life. Penso che la domanda che ogni genitore si pone è qual è il modo migliore per educare i nostri figli e prepararli alle sfide della vita. Quali sono le sfide della vita? Bella domanda. Quali sono le sfide della vita? Come genitori ci poniamo la domanda quale educazione potrebbe essere migliore per aiutare i nostri figli di incontrare il loro futuro da adulti. Lo scopo del progetto è di visitare numerose scuole, cosiddette alternative, ovvero dove si insegna in un modo non tradizionale, dove vengono inseriti anche strumenti quali lo yoga, la meditazione, un approccio più olistico e che include anche quello che è la socialità, l'amore, la giovialità, la gentilezza e non solo nozioni puramente accademiche. Voi cosa ne pensate? Siete eccitati di questa nuova esperienza? Sì, sì, sono molto felice di partecipare a quel tuo viaggio. Abbiamo pensato a Patreon perché è un servizio con il quale possiamo chiedervi un contributo per riuscire a realizzare questo nostro sogno, che è un sogno non soltanto per noi di vivere questa esperienza incredibile, ma anche di poter condividere con voi tutto quello che riusciremo a accumulare come esperienza e portare così anche a voi il frutto di quello che noi raccoglieremo. Diranino, qua dietro, avrà il compito durante il viaggio di scrivere ogni posto dove andiamo e descrivere i momenti più belli. Mentre April avrà principalmente il compito di fare foto e anche lei quindi documentare il nostro viaggio. Speriamo veramente di poter contare sul tuo sostegno perché vogliamo contribuire al bene della tua famiglia o della tua classe se sei un educatore e contribuire così a portare una nuova consapevolezza nel campo dell'educazione. Be part of our dream! Grazie! 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 Grazie!